Vuole sparigliare le carte il conservatore britannico David Cameron che questo martedì ha presentato il programma dei suoi toris. Il partito dei lavoratori siamo noi, ha detto il premier in carica, e questo a poche ore dalle dichiarazioni del suo avversario, il laborista Milliband. Offriremo qualcosa di meglio per quelli che vogliono provarci. Siamo il partito dei lavoratori. Se volete un futuro migliore per voi e per i vostri figli, lasciateci continuare il lavoro e finire ciò che abbiamo cominciato, ha detto. Nonostante Cameron ostenti sicurezza, tuttavia, il premier è sotto pressione. I laboristi appaiono leggermente avanti, nonostante il fatto che andare a elezioni da primo ministro in carica rappresenti un indubbio vantaggio. Con la contrazione delle intenzioni di voto per gli euroscettici di UKIP si prospetta un testa a testa serrato con Milliband che promette un paese più normale, dove abbiano diritto di cittadinanza non soltanto le grandi fortune e dove il sistema sia più equo. A causa della crisi economica, che non ha risparmiato la Gran Bretagna, i laboristi partono col piede giusto. I remember vividly when you're...